E ciao a tutti amici, io sono Axel, oggi ho cambiato saluto, anzi no, facciamo quello che al solito, potente appara ragazzi Qua Axel, oggi oh my god, oggi sono da sole e sono qui a presentare questo mio primo episodio di questa nuova serie basata Ragazzi, mi viene l'ansia a dirlo, sulla compravendita Perché infatti era da praticamente un anno che non vi portavo un video sulla compravendita, quindi sono abbastanza gasato in questo momento Innanzitutto è il primo episodio di una nuova serie, serie che chiamerò molto probabilmente Road to One Million Coins Perché appunto il nostro obiettivo è quello di raggiungere, facendo appunto compravendita, magari qualche volta qualche pack opening, un milione di crediti Quindi ragazzi, prima di iniziare vi volevo ricordare di lasciare un bel impiace o meglio, vi chiedo cortesemente di farmi sapere cosa ne pensate di questa serie Innanzitutto se si va bene il titolo oppure no, perché infatti se magari non volete che io cerchi di raggiungere un milione di crediti Dato che molto probabilmente ci metteremo tanto tempo, scrivetemi magari che traguardo raggiungere magari 100.000 crediti come anche 200.000 Comunque prima di cercare ciò che andiamo, volevo subito dire che per prima cosa, quando voi appunto inizierete a cercare di fare compravendita Cosa dovete fare? Dovete mettere all'asta tutti i giocatori che avete trovato nei pacchetti iniziali Questo è l'unico modo per iniziare ad avere dei crediti a meno che voi non li scartiate Una volta fatto ciò vi dovete mettere in testa che all'inizio, con ogni account su ogni FIFA, è veramente difficile fare compravendita Questo perché? Perché innanzitutto non ci sono tante persone che ci giocano, anzi ci sono veramente poche persone che sono quelle uniche persone che utilizzano l'IA Access Quindi non molta gente punta diciamo su comprare già giocatori da utilizzare E secondariamente dovete mettere in testa che essendoci tanta gente che fa compravendita o meglio che cerca di fare compravendita Molto probabilmente voi perderete molte aste Non riuscirete dunque a comprare che ne so magari giocatore ad un prezzo di 500 crediti inferiore al loro prezzo normale Quindi non riuscirete a fare un'ottima compravendita con pochi giocatori se possiamo così dire Quindi cosa dovete pensare? Dovete pensare che a voi vi basterà comprare molti giocatori e rivenderli a poco più Nel senso non punterete a fare un buon guadagno con pochi giocatori ma bensì un piccolo guadagno con molti giocatori Una volta aver imparato ciò dovrete cercare il giocatore che fa per voi Perché infatti io non dico che esistano giocatori per la compravendita Però secondo me ci sono giocatori che vi portano più profitto rispetto che ad altri giocatori Questi giocatori li dovrete cercare solo voi Io come potete ben vedere in questo primo episodio o meglio nello sfondo di questo video Ho utilizzato veramente tanti giocatori Questo perché? Perché volevo cercare un mio giocatore Un mio giocatore che mi riuscisse a portare moltissimi crediti In questo episodio non mi sono concentrato come ho appena detto su molti giocatori I principali erano comunque Boni, Marcello, il difensore centrale brasiliano Sanchez Migno, Boilesen e Varrijn Poi vabbè ho cambiato veramente stavo cercando di trovare il mio giocatore preferito Infatti è questo che vi consiglio di fare all'inizio Poi ovviamente se voi non volete, volete fare il metodo classico È quello all'incirca di cercare di prendere giocatori oro Oro non rari a 300 crediti e rivenderli a 305 Piuttosto vi consiglio di puntare su giocatori argento Ma non per forza argento rari Infatti può capitare che con questi tipi di giocatori Come ho già detto giocatori argento non rari Voi è possibile che li riusciate a trovare ad un prezzo veramente minimo E appunto farci un grandissimo guadagno Questo perché mettete caso Ci sono giocatori che appunto ci sono utenti FIFA che magari si fanno la loro bella spacchettata Non trovano molto ma trovano questo ad esempio giocatore argento non raro Che non sembra male ma non sembra anche una bestia Così cosa fanno? Lo vanno a mettere ad un prezzo di compra ora magari a 450 E voi sapete che quel giocatore in realtà ne costa 1.500 Quindi cosa potete fare? Potete direttamente prendere all'asta quel oggetto Utilizzando la funzione, possiamo così definirla, compra ora Oppure in altri casi in cui magari il compra ora non è così conveniente Potete comunque fargli l'offerta Dovete appunto sfruttare sul fattore Che questi giocatori non sono molto conoscitissimi Comunque ragazzi questo primo episodio sta andando al termine Spero che vi sia piaciuto Magari nel prossimo mi concentrerò più un attimo sui giocatori che ho utilizzato Però come ho già detto devo ancora trovare i giocatori che a me fanno fare i bei profitti Diciamo anche magari i giocatori che costano poco Che però riesco a prendere in quantità elevate se possiamo così dire Quindi detto questo il video è finito Spero che vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare un bel impiaccio Mi raccomando se arriviamo a 4.000 il secondo episodio uscirà il prima possibile Fatemi anche sapere cosa ne pensate del primo saluto Se volete che appunto io cambio meno E quindi detto questo io vi saluto e vi dico potente Pala e sento al prossimo video Bolla